Io cotto con il fatto che noi ci siamo concentrati Ci siamo concentrati Sì, stai mi chiedendo senza aerea C'è un mondo che mi deve prendere Non ciò che mi fa Io sono di qua Che sono machini Guarda pari pazzi E se fai pure anche Però un'idea Mi piace se si è sentita Per non ci fare la unica E' un'idea E' un'idea E' un'idea E' un'idea E' un'idea E' un'idea Se noi non avessimo un'idea Non stai mi chiedendo senza aerea E' un'idea E' un'idea Ti aver mandato E' un'idea E' un'idea Sare però tantissime Ma si deve zor Hersh E' un'idea elemento E' un'idea Che noisimo Può sparare in pieno Bertrillo Unile menino In mezzo a saga È 주� холод Ma si deve Ma dici I punti Unine E' un po' Unile menino ести non è Preoccupare che se non esiste l'assolutismo della maggioranza che si modificano i poteri del Presidente del Consiglio ma noi non modifichiamo i poteri del Presidente del Consiglio l'unico potere che non modifichiamo quello dei cittadini che scelgono il Presidente del Consiglio perché il Presidente del Consiglio invece di essere deciso da un fattito dai fattito del palazzo viene scelto direttamente dai cittadini è l'unico potere che si rafforza ai poteri del Presidente del Consiglio che gli valgono gli stessi ed è questo che spaventa la sinistra loro non lo possono dire ma il problema è questo il problema è che se decidono i cittadini loro proprio che in mente non possono più governano le elezioni quindi il loro problema non è un uomo solo al comando ma è il rischio di non avere più un sistema il quale c'è il PD solo al comando ma credo che sia un problema della politica ma credo che sia un problema della politica è il rischio di non Grazie a tutti.